Musica Seconda edizione del nostro telegiornale ben ritrovati cari amici telespettatori dal Piemonte in apertura il nuovo terremoto in centro Italia, terra che continua purtroppo a tremare. Sono un migliaio fra protezione civile, vigili del fuoco e volontari di tutto il Piemonte, il contingente presente nelle zone martoriate dal sisma e dalla neve. Da ieri altre tre unità dei vigili del fuoco in servizio in Piemonte hanno raggiunto i luoghi della tragedia. Ai piedi del Gran Sasso in serata arriverà anche il potente gatto delle nevi che sarà utilizzato dagli uomini della protezione civile di Alessandria per arrivare all'hotel Rigopiano di Farindola scomparso sotto una valanga di neve. E fino a questo momento sono state già recuperate le salme di tre persone. Ci racconta tutto Franco Capone. Prosegue l'impegno del personale dei vigili del fuoco e della protezione civile di Alessandria in soccorso delle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal sisma e dalla emergenza neve. Il gatto delle nevi in dotazione al centro regionale della protezione civile di Alessandria partito questa mattina dalla base di San Michele sta raggiungendo le falde del Gran Sasso dove sono in atto le operazioni di recupero delle persone, oltre 20 ospiti dell'hotel Rigopiano di Farindola. Fino a questo poveriggio i soccorsi hanno recuperato tre salme ma il numero delle vittime potrebbe essere molto di più. Oltre a raggiungere l'albergo intrappolato fra l'enorme slavina di neve, l'automezzo cingolato che qui vediamo in azione durante l'alluvione 2011 che ha colpito Alessandrino sarà molto utile anche per recuperare le famiglie residenti nelle zone difficili da raggiungere a causa dell'abbondante nevicata che in alcuni territori ha raggiunto un'altezza di circa 3 metri. Il coordinamento di Alessandria della protezione civile sta lavorando in una situazione ambientale molto difficile dove, oltre alla neve, di notte la temperatura scende a meno 17 gradi. In questo territorio, insieme ai militari del genio dell'esercito, stanno pianificando gli spazi per sistemare i moduli abitativi e le case provvisorie. Nella zona del sisma e delle nevicate sono già all'opera oltre 200 volontari piemontesi della protezione civile e 250 vigili del fuoco. Inoltre, ieri pomeriggio sono partite tre unità dei pompieri diretti in provincia dell'Aquila, specializzate in tecniche di derivazione speleoalpino-fluviale in ambiente innevato. Infine, da mesi, due unità dei vigili del fuoco del Piemonte sono impegnate come supporto alle operazioni di messa in sicurezza del patrimonio storico-artistico e delle abitazioni nel centro cittadino di Norcia, Camerino ed in provincia di Pescara. Adottare immediatamente in ogni ospedale dove ve ne sia necessità il ricorso alla richiesta di prestazioni aggiuntive al personale per dare risposta ai servizi di maggiore criticità e per attivare posti letto aggiuntivi. La richiesta arriva dal sindacato regionale degli infermieri che denuncia il collasso della sanità del Piemonte. Sentiamo. Imputare la situazione di grave sovraffollamento nei pronto soccorso di queste settimane solo alla sfortunata emergenza del momento è un errore palese e grossolano, compiuto da molti esponenti della politica nostrana. La verità è che a fronte di ampie sacche di eccellenza professionale stiamo pagando i danni del progressivo impoverimento quantitativo e qualitativo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie rese ai cittadini piemontesi che deriva dalla diminuzione delle strutture ospedaliere calate di diverse unità del numero dei posti letto e dei dipendenti tagliati in diverse centinaia. Ad affermarlo Claudio Dellicarri, segretario regionale del Nursing App, il sindacato degli infermieri che reputa inaccettabile il piano di razionalizzazione regionale improntato solo per rispondere a un'esigenza economica. Secondo il sindacato, per arginare questo impoverimento è necessario utilizzare il personale più qualificato già presente negli ospedali chiedendo la disponibilità a erogare prestazioni aggiuntive al di fuori dei normali turni di servizio, aprire reparti e posti letto, ma per farlo occorre personale. Negli ospedali, conclude Dellicarri, molti reparti un tempo fiorenti oggi risultano chiusi, mancano i posti letto sia nelle aree di base sia in quelle specialistiche e manca il personale infermieristico anche per gestire i posti letto che sono rimasti. I pronto soccorso non riescono a smaltire il flusso di richieste poiché non hanno un luogo dove ricoverare i malati bisognosi di un posto letto. Questi creano un tappo che rallenta l'accesso alle cure di chi è in attesa e a farne le spese sono tutti. La corsia a nord dell'autostrada A21, la Torino-Piacenza, rimasta chiusa questa mattina per oltre 4 ore. è stata riaperta al traffico poco prima di mezzogiorno a provocare il blocco della corsia in direzione Torino. È stato un tamponamento tra un Audi e un camion avvenuto nei pressi del casello di Felizzano. La vettura tamponata è rimasta bloccata al centro della carreggiata. Tre persone che viaggiavano sull'Audi hanno riportato ferite lievi. Una capriola al parco acquatico Bolle Blu di Borghetto Borbera ha reso tetraplegico un diciottenne novese. I familiari fanno causa alla società che gestisce il parco acquatico chiedendo il risarcimento danni. Ci racconta questa storia Emma Camagna. Il 15 luglio 2014 un giovane non ancora diciottenne di Pasturana, da poco assunto con contratto di apprendistato professionale stagionale part time con la qualifica di addetto all'assistenza bagnanti nel parco acquatico Bolle Blu di Borghetto Borbera nell'utilizzare in modo irregolare uno scivolo, facendo una capriola durante la discesa, battè il capo contro lo scivolo con tragiche conseguenze. È tetraplegico con infermità al 100%. Per lesioni fu messo sotto accusa il bagnino Matteo Raganini, oggi di 26 anni, Borghetto Borbera, addetto al controllo della discesa di quello scivolo. Ma il GIP di Alessandria lo prosciolce ritenendo che non avesse responsabilità penali. Ora, i genitori e i due fratelli del ragazzo che ha avuto la vita rovinata da quella capriola, assistiti dall'avvocato Tino Goglino, hanno dato inizio a una causa civile nei confronti della società TCAG, proprietaria del parco acquatico. Chiedono il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e dalla vittima e dai familiari che devono occuparsi giorni e notti del tetraplegico e sostenere molte spese per la cura e l'assistenza del giovane. Sostengono che una percentuale di colpa spetta all'infortunato, ma la società non vigilò sul rispetto delle regole emanate anche dalla Federazione Italiana Nuoto. La capriola era vietata ma tollerata. Gli agenti delle squadre mobili di Torino e di Alessandria hanno arrestato Salvatore Trimboli, 57 anni, nato in Argentina, residente ad Alessandria e domiciliato a Torino. L'uomo deve spiare una pena di 9 anni, 5 mesi e 26 giorni di reclusione e deve anche pagare 60 mila euro di multa per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato bloccato a Torino, in via Paolo Veronese, mentre stava facendo retromarcia e tentava di scappare dopo aver visto gli agenti della squadra mobile. Era a conoscenza di dover espiare questo reato e per questo si era allontanato andando a Torino nei pressi di una sua conoscente residente a Palermo. Salvatore Trimboli è fratello di un collaboratore di giustizia che era stato tratto in arresto in Colombia, anche lui per un'indagine in materia di traffico internazionale di stupefacente e che poi è stato estradato in Italia. Adesso la linea passa alla nostra redazione di Torino per le ultimissime. Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori. In apertura c'è la cronaca con il blizzo delle forze dell'ordine questa mattina a Torino e provincia dove sono stati posti sotto sequestro ben 47 centri massaggi cinesi in cui veniva abitualmente esercitata la prostituzione e non solo. I dettagli. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal GIP di Torino su ordine della Procura al termine di un'indagine di quasi due anni coordinata dal procuratore Paolo Borgna. 47 centri massaggio cinesi a Torino e nella prima cintura sono stati così perquisiti e posti sotto sigillo in un'operazione unificata di vigili urbani, carabinieri e polizia. Ai titolari dei locali sono stati notificati gli avvisi di garanzia. Tra i reati contestati lo sfruttamento della prostituzione e il favoreggiamento. Tra le sale chiuse c'è anche quella di Corso Francia 11, l'Ok Brava, dove proprio un anno fa è morto un pensionato tantenne in circostanze che devono ancora essere chiarite. Nel corso delle indagini sono già stati ascoltati decine di clienti, tutti messi alle strette e hanno confermato gli episodi di prostituzione. Si tratta di un'indagine pilota a livello nazionale che potrebbe segnare la fine di un racket diffuso in ogni città alla luce del sole. Restano poi da valutare i reati di natura amministrativa e fiscale ravvisati dalla sezione di polizia giudiziaria e della polizia municipale. Nel corso delle indagini sono state sentite numerose persone che frequentavano questi centri e si è accertato anche dalle dichiarazioni testimoniali che questi hanno rilasciato che effettivamente all'interno si svolgeva questa attività. Sono state anche ricavate delle fonti di prova che chiaramente sostenevano questo. L'attività ha avuto epilogo oggi con un'operazione di sequestro di questi centri massaggi e l'accompagnamento delle ragazze per identificazione presso le strutture della polizia municipale, dei carabinieri e della polizia di Stato che hanno dato la loro collaborazione a questa attività di indagine. Ed è stata aggiornata al prossimo primo marzo l'udienza preliminare per il crack di Seat Pagine Gialle. Tra i 15 imputati figurano l'ex presidente Enrico Giliberti e l'ex amministratore delegato Luca Maionchi. Il PM Valerio Longi contesta l'esito di un'assemblea del 2004 con cui l'azienda deliberò la distribuzione di un dividendo ai soci che poi generò un'esposizione finanziaria insostenibile. Il danno è sto quantificato in 3 miliardi e 578 mila euro. Consumatori e feder consumatori hanno così chiesto di costituirsi parte civile in rappresentanza di circa 400 piccoli azionisti. Abbigliamento, edicole, macellerie, la crisi dei negozi non si arresta a Torino e solo nell'ultimo anno sono spariti circa 475 negozi al mese. Da ieri saracinesche chiuse anche per lo storico peirano di corso Vittorio Emanuele 76. Prima un cartello annunciava una ristrutturazione, invece le saracinesche non si rialzeranno più e due dei tre lavoratori sono stati licenziati. La notizia è circolata quando i sindacalisti della Flai CGL hanno ricevuto i due ex dipendenti, un fattorino e una pasticcera che lavorano da quasi 30 anni intenzionati a impugnare il licenziamento. Le ragioni sono prettamente economiche, ha spiegato Bruna Giorgio, titolare assieme al marito Giorgio Peirano. Avevamo costi troppo elevati e abbiamo dovuto riorganizzare l'attività. Abbiamo abbandonato la parte di pasticceria e venduto i macchinari, ma continuiamo a concentrarci nella produzione del cioccolato come abbiamo sempre fatto. Al momento resta sempre aperto il negozio e il laboratorio di Corso Moncalieri. Per il momento da Torino è tutto, la linea potonara ad Alessandria. E noi comunque restiamo nel torinese con due notizie ANSA che sono state battute poco fa. La prima riguarda Gino Alessandro, il biker di 47 anni degli Hells Angels, che era stato ferito alla testa con un colpo di pistola lo scorso 11 gennaio nel Torinese. I medici purtroppo hanno constatato lo stato di morte cerebrale e hanno iniziato le sei ore di osservazione necessarie per dichiararne la morte. La famiglia ha dato il nulla osta per l'espianto degli organi e la prossima settimana verrà effettuata l'autopsia per recuperare il proiettile e servirà per le comparazioni con quelli trovate sul luogo dell'agguato. Sono state tre le persone fermate per questo fatto di sangue. Claudio Romano, imprenditore ed ex assessore di Giaveno in provincia di Torino, il figlio Eric e il cugino Manuel Morisciano. Per tutti e tre l'accusa adesso è di omicidio. Su questo caso indagano i carabinieri di Rivoli. Mentre nell'altra notizia, un'altra notizia di cronaca che arriva da Venaria e siamo sempre in provincia di Torino, dove un detenuto ai domiciliari ha brandito una mannaia contro la propria moglie ed è stato arrestato dopo un tentativo di fuga. Un albanese ha 44 anni ed è finito nei guai nel settembre del 2015 quando era stato arrestato dalla sezione antidroga della squadra mobile con l'accusa di importare ingenti quantitativi di marijuana dall'Albania. L'uomo era ubriaco da quanto si sa e ha minacciato la moglie con una mannaia allontanandosi poi da casa. Rintracciato e fermato dai carabinieri di Venaria è ritornato in carcere. Questa volta deve anche rispondere di minaccia, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di San Michele di Alessandria che stanno attuando una protesta silenziosa dallo scorso 22 dicembre che consiste nel non consumare il pasto alla mensa hanno deciso di donare il cibo alla Caritas di Alessandria. Gli agenti, che non intendono affatto interrompere la loro protesta motivata dalla carenza d'organico nelle carceri alessandrine hanno informato con una lettera inviata dai sindaci della polizia penitenziaria il provveditore regionale e i dirigenti nazionali. Il dirigente della polizia stradale di Alessandria, Marina Di Donato ha tracciato un bilancio dell'attività svolta lo scorso anno in provincia di Alessandria. Rispetto al 2015 sono diminuiti gli incidenti stradali ma non il numero delle vittime sono aumentate anche le persone che al volante sono state sorprese a guidare in stato di abbrezza alcolica su 215 appiedati anche molte donne. Domani torneremo con un'intervista al dirigente di Donato. Incremento del fatturato, innovazione, ottimizzazione dei servizi sono i principali obiettivi del nuovo amministratore unico della Samo l'azienda di trasporto pubblico dell'Ovadese. Di questo ci parla Fabrizio Mattana. Nuovo corso per la Samo, l'azienda di trasporto pubblico con soci i 16 comuni della zona ovadese a cui si sono aggiunti recentemente Prasco e Rivalta Bormida dopo il cambio al vertice deciso nell'ultima assemblea del 20 dicembre. Alla guida dell'azienda è stato chiamato Gian Piero Sciutto che in passato ne era già stato amministratore delegato. sostituisce Franco Piana per dare continuità ai tanti progetti messi in cantiere e ha come obiettivo principale una gestione volta innanzitutto ad un incremento del fatturato puntando sull'innovazione. Del resto l'azienda anche in passato non aveva mai rinunciato a sperimentare dedicandosi non soltanto ai trasporti ma anche ad altre attività come la raccolta dei rifiuti, poi ai tempi dei tagli regionali impegnandosi nel settore noleggio anche a livello internazionale. Sciutto, che è anche consulente di organizzazione aziendale, metterà a frutto la sua esperienza in un settore che nonostante tanti problemi può ancora puntare in alto e per farlo si dichiava totalmente aperto al dialogo sia con le istituzioni ma soprattutto con i cittadini che sono i primi fruttori dei servizi offerti dalla Samo e che ultimamente sono anche i più penalizzati da una politica regionale da rivedere. C'è la volontà inoltre di ottimizzare i servizi di trasporto non disdagnando di considerare possibili alleanze di bacino mantenendo però un ruolo da protagonista. Per assumere il nuovo incarico Sciutto, come abbiamo anticipato in altri servizi, ha dovuto dimettersi per incompatibilità di incarico da consigliere comunale e da capogruppo di Insieme per Ovada. Bene, tra poco la pagina sportiva ci occuperemo dell'anticipo dell'Alessandria Calcio che riprende il campionato domenica dopo la pausa natalizia e poi della Thai Box Mania sbarcata prepotentemente a Torino. Subito dopo le notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie.